Nel cuore di questa puntata c'è anche un momento straordinariamente rilevante quando si parla della forza dello spirito dentro la Chiesa, dentro i suoi movimenti, la creazione delle novità, ma è il momento appunto di dare la parola alla nostra Ana Maria Salvemini. Introduciamo questo spazio con questa musica e per chi già li conosce, il rinnovamento nello spirito attivissimo in Italia e non solo, do il benvenuto al nostro ospite, il Presidente nazionale Salvatore Martinez, ben trovato. Grazie, buongiorno, un saluto a lei e a chi ci sta seguendo. Allora, accogliamo grazie intanto e in anticipo. Cogliamo l'occasione, siamo in vista della Pentecoste, una Pentecoste speciale, per presentare il rinnovamento nello spirito a quei pochi che ancora non lo conoscono. Vogliamo sapere un po' anche com'è nato, e poi magari dare alcuni appuntamenti. Le origini? Sì, è un miracolo dello spirito e direi proprio un esaudimento delle attese del Concilio, che invocava una nuova discesa dello Spirito Santo, una pioggia di carismi, diceva Paolo VI, un ritorno alla Pentecoste, una nuova Pentecoste, diceva Giovanni XXIII, all'apertura del Concilio Vaticano II. E questo esaudimento dal basso, non programmato dalla gerarchia, non voluto dalle istituzioni ecclesiali, è la risposta dello Spirito. Siamo agli inizi del 1967, sono alcuni studenti universitari americani, proprio sulla scia del Concilio, a cercare di comprendere qualcosa di più dello Spirito Santo. E così, misteriosamente, miracolosamente, dal basso, questa corrente di grazia si diffonde presto in tutto il mondo. Giunge in Italia alla fine del 71, agli inizi del 72, pertanto stiamo per entrare nel giubileo d'oro del rinnovamento in Italia. Nasce alla Gregoriana, all'Università Gregoriana, quindi con un impianto teologico abbastanza solido. Ritroveremo poi il Cardinale Bergoglio in Argentina come assistente spirituale del rinnovamento carismatico nel paese, ma certamente l'impegno non soltanto di gesuiti, ma di francescani, ricordiamo Padre Raniero Canta la Messa, e tanti altri teologi hanno permesso alla nostra esperienza in Italia di diffondersi in tutte le diocesi con un marcato impegno ecclesiale, con una formazione, un'attività missionaria e ministeriale assai diffusa. Oggi sono 1800 i gruppi, le comunità, i cenacoli presenti nel nostro paese, otto le missioni che il Movimento ha nel mondo, insieme a tante iniziative, scuole e opere di carità che segnalano lo spirito della Pentecoste, perché Pentecoste segna non solo la rinascita continua e incessante della Chiesa, ma anche della nostra fede, di quella che noi amiamo chiamare la fede carismatica, cioè la fede operativa, la fede che permette allo spirito di compiere non soltanto segni, miracoli, prodigi, come dovrebbe sempre fare la nostra fede, questa è la promessa di Gesù, ma di vedere una vita nuova che rinasce nelle case, nelle famiglie, nei giovani, nell'esperienza sacerdotale. Dunque il rinnovamento, come dice la stessa parola, non è niente di nuovo, ma rinnova ciò che rischia di diventare vecchio. E' proprio la nostra fede, non deve invecchiare e ha bisogno continuamente di rigenerarsi nello spirito. Tutto questo a dimostrazione del fatto che lo spirito non si riceve una volta sola, ma si rinnova, quindi sbaglia chi la pensa diversamente. Doni e missioni, carismi, tanti sono che portate avanti, non vi stancate mai. Chi vi conosce sa che anche soltanto visitando il vostro sito trova diversi eventi, diverse occasioni per soffermarsi. Un successo dovuto a che cosa? Sicuramente alla comunione. Qual è il segreto? Alla comunione e direi anche all'obbedienza allo spirito, perché se non ci fosse questo movimento che lei ricordava, dovremmo interrogarci, perché Gesù promette questo movimento, quando annunciando la Pentecoste e la venuta dello spirito parla di dynamis. È una parola che potremmo tradurre come potenza, come una potenza dinamica, ma sostanzialmente è il movimento. Dunque la Chiesa è in un incessante movimento, diceva San Giovanni Paolo II, è essa stessa un movimento. Dunque c'è bisogno di laici, cristiani, carismatici, costantemente in movimento, movimentati dallo Spirito Santo. Dunque non c'è in realtà un ambito privilegiato, un ambito elettivo, ma tutto ciò che riguarda la storia, la vita degli uomini, la vita della Chiesa, non soltanto ci interessa, ma ci stimola. Ed è pertanto che si segnalano tante iniziative che vedono il protagonismo dei giovani, delle famiglie, dei sacerdoti e poi tanti ambiti missionari di carità. Se così non fosse, dovremmo interrogarci che fede professiamo. La nostra è davvero una fede dinamica. Questa è la fede che lo Spirito Santo costantemente rinnova. Ed è sotto gli occhi di tutti. Dottor Martinez, lei parlava prima di vita nuova. In questo periodo abbiamo tutti voglia di rinascere, di ricominciare. Lo stesso vostro nome, rinnovamento nello Spirito, dà l'idea di un cambiamento. Calati in questo periodo, come pensate di aiutare chi ne ha bisogno? Guardi, mi lasci dire, sì, è importante ciò che lei chiede. Lo scrivo e lo sostengo da vent'anni almeno. La crisi è spirituale. Tutte le crisi morali, politiche, familiari, antropologiche, economiche che il mondo vive e che questa pandemia ha accentuato in ogni angolo della terra, tutte queste crisi sono da ricondurre alla madre delle crisi, che è spirituale. Allora la risposta deve essere spirituale. Come dire, dovremmo riannodare il bandolo della matassa e ridare un principio unificatore a tutte le diverse crisi, le sofferenze, i disagi sociali che l'umanità vive? La risposta è nello Spirito Santo. Gesù è molto chiaro quando propone il rinnovamento a Nicodemo. Nicodemo era un ottimo maestro, ma era affascinato da Gesù. E gli chiede sostanzialmente qual è il segreto. Gesù gli propone una rinascita, ma gli dice al contempo è una rinascita che non avviene per meriti umani, non può venire dalla carne, viene dallo Spirito. Che cosa significa tutto questo? Non sarà la politica a salvarci, non sarà l'economia a salvarci, non sarà una nuova cultura, un nuovo ordine sociale a determinare la gioia dei figli di Dio, a determinare una vita buona, santa, giusta, quella che tutti desiderano. Viene dallo Spirito. Dunque questo rinascere incessantemente, rinnovarsi incessantemente, è un cammino che non avrà mai fine. Pertanto, come giustamente ricordava, non avviene una volta soltanto. Sbaglia chi pensa che con il battesimo tutto si sia risolto, o con i sacramenti tutto si sia risolto. Ci permettono di entrare in una vita nuova, ma la vita nuova va costantemente coltivata, va rigenerata. Dunque la preghiera è il modo migliore per prendere atto che dobbiamo includere Dio nella nostra vita. Quando noi preghiamo, esperimentiamo non soltanto la comunione che lei richiamava, ma un bisogno incessante dentro di noi di rigenerarci, di rinascere, di capire che c'è di più, che possiamo fare di più. Questo ci ottiene la preghiera. Ma poi c'è la parola di Dio che indica il cammino che noi dobbiamo seguire. C'è un deficit di parola di Dio, di profezia nel nostro tempo che va colmato. Se ascoltassimo Dio e tutte le promesse che riguardano lo Spirito Santo, noi ci ritroveremmo immediatamente più capaci, più felici, più amati, più incisivi ogni giorno in tutto ciò che noi facciamo a partire dalla nostra fede. E pertanto parliamo di una vita nuova nello Spirito. Papa Francesco ci incoraggia a proporre l'effusione dello Spirito, il battesimo nello Spirito, come lui ama chiamarlo, perché si riattivino, si ridinamizzino tutti i talenti, i doni, i carismi, le virtù, che come patrimonio genetico noi cristiani abbiamo. È come se avessimo un grande pacco dono che abbiamo ricevuto e che rimane lì, ancora confezionato, che nessuno ha aperto per vedere la ricchezza, la bellezza della nostra fede. Questo cerchiamo di fare nei nostri gruppi, nelle nostre comunità, proponendo un cammino di vita nuova. Grazie e alla luce di tutto questo, grazie all'esperienza dell'effusione dello Spirito Santo, sorgono, poi nascono, poi eventi, come quello che si sta svolgendo. Lo abbiamo visto all'inizio del nostro incontro. Un seminario di vita nuova nello Spirito che segna proprio la rinascita nel nostro cammino. E poi ci sarà una convocazione nazionale. Mi soffermo un attimo sulla locandina che stiamo guardando in questo istante. Un seminario nazionale a cui si può partecipare online. Aperto a tutti, è già partito il 14 maggio, ma c'è ancora tempo per intervenire, per partecipare? Sì, assolutamente sì. Mi permetta però di dire che la parola seminario è, direi, tecnica. Non vorrei che si pensasse che abbiamo aperto un seminario per preti o per religiosi. Il seminario è un luogo di semina. Sono i semi dello Spirito, i semi della vita nuova, che ci derivano da cinque annunci kerigmatici. È come se ci trasferissimo a Pentecoste, nella Pentecoste storica di Gerusalemme, quando Pietro, in modo molto chiaro, asserisce che Dio Padre è amore, e che questo amore si è fuso nei nostri cuori attraverso Gesù, e che questo amore è combattuto e sfidato dal diavolo, dal peccato che vorrebbe tenerlo impotente, crocifisso, e che però abbiamo lo Spirito Santo che tutto questo realizza nella nostra vita, aiutandoci nel combattimento spirituale a vincere tutte le insidie del male, del maligno, e così proclamare con gioia che Gesù è vivo, che Gesù è Signore, e che questo amore del Padre ci raduna e ci fa fratelli. Ecco, questo in sintesi è l'annuncio kerigmatico che in cinque incontri noi proponiamo, e lo proponiamo a tutti. La novità è che per la prima volta nella nostra storia lo riproponiamo a tutto il rinnovamento nello Spirito, cioè a tutti coloro che questa esperienza dell'effusione dello Spirito hanno già fatto. E obbedendo a Papa Francesco vogliamo proporlo a tutti. Papa Francesco ci ha detto addirittura andate sulle strade e lì proponete l'effusione dello Spirito. Cioè tutti coloro che sentono questo bisogno di rinascita, di risveglio, così che la convocazione nazionale che celebreremo nell'ottava della festa di Pentecoste, quindi l'ultimo weekend di maggio, vada a significare questa apertura delle porte del Cenacolo così che possiamo uscire. Ecco, si parla di riaperture, si parla di ripresa della vita del Paese, si parla di un nuovo slancio economico, turistico, e sono tutte cose più che auspicabili. Ma noi vogliamo dire che le porte delle nostre case, come le porte delle nostre comunità, vogliono aprirsi dopo la Pentecoste perché possiamo ripartire, ricominciare insieme, tornare a vivere la nostra vita comunitaria e inaugurare una nuova stagione missionaria. Dunque, invitiamo tutti, non solo a vivere questo seminario, nel nostro sito rinnovamento.org ci sono tutte le condivisioni, tutti i materiali che sono stati utilizzati, ma ad unirsi a noi, 29-30 maggio, a questo tempo di evangelizzazione e di adorazione, di animazione spirituale, che vedranno cardinali, relatori, testimoni di eccellenza, unirsi a noi perché le parole che state vedendo impresse si possano realizzare. Un cuore nuovo, uno spirito nuovo. E' il profeta Ezechiele a dire questo in un tempo della storia di Israele non diverso dal nostro. Un tempo che aveva conosciuto morte, disobbedienza sociale, politica, grandi sofferenze e dunque il Signore suscita Ezechiele perché annunci un tempo nuovo, con l'effusione dello spirito, un cuore e uno spirito nuovo. Allora, noi vogliamo rivivere e riattualizzare queste parole profetiche in un tempo segnato dalle sofferenze del Covid che ha bisogno davvero di rinnovamento e di una ripartenza spirituale. E per ripartire c'è bisogno di essere accompagnati dallo Spirito Santo. Dottor Martinez è stato chiarissimo, abbiamo citato anche la convocazione nazionale nel prossimo weekend. Grazie di tutto, tutte le informazioni si possono trovare sul sito rinnovamento.org come sottolineava il Presidente. E allora, siete contagiosi, ve lo possiamo dire, siete contagiosi. Per ripartire c'è bisogno, nel senso buono del termine, la contagiosità in questo periodo può essere fraintesa. Grazie. Ma a condizione che questo sia il virus dell'amore, saremo inguaribilmente innamorati. Dunque, questo è il vero contagio spirituale di cui il tempo ha bisogno. Attenzione, perché c'è un altro virus che è quello dell'indifferenza ed è quello della solitudine provocata, abbandonata, che genera molti più morti ogni giorno del coronavirus. E dunque, abbiamo un debito d'amore da sciogliere incessantemente e dunque, benvenga questo contagio d'amore, questo contagio spirituale che peraltro ha per protagonista non un virus letale, ma lo Spirito Santo. Bellissima conclusione. Grazie, dottor Martinez, di cuore per essere stato con noi e buon lavoro. E buona Pentecoste. Buona Pentecoste. Buona Pentecoste, anche a voi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.